Chi ha più potere? Il tetrarca Erode Antipa oppure la figliastra Salome, che in cambio di una danza ottiene dal re la testa del profeta Yoconan? E qual è il vero ruolo di Erodiade, madre di Salome, in apparenza appartata? Al rossetti fino a domenica è in scena Salome di Oscar Wilde, uno spettacolo bellissimo coprodotto dallo stabile del Friuli Venezia Giulia. Spettacolo che offre più di uno spunto di riflessione, intanto sul potere. Erode è un sovrano pauroso e incompleto, cui ero spagni, giocando al solito con i toni della propria voce, conferisce una personalità instabile, a tratti persino ironica. Garantisce a Salome ciò che vuole, ma di fronte ad una richiesta agghiacciante e che egli riconosce come tale, deve cedere, salvo poi giustiziare anche la donna. Salome, una gaia prea seducente, impressionante, sempre più brava, dal canto suo chiede che il profeta, un giacinto palmarini che avremmo voluto più eratico e folle nelle invettive, sia giustiziato non per vendicare la madre, accusata di concubinaggio con Erode secondo il racconto evangelico, ma semplicemente perché egli non soggiace al suo potere di seduzione. Erodiade dal canto suo, un'anita Bartolucci perfetta, appare appunto defilata in secondo piano. Pure non si oppone alla richiesta della figlia, la vede come uno strumento per ottenere quasi tutto, senza spendere nulla e senza spendersi. Il testo è semplicemente sublime, ricco di armonia interna e di gran pregio che anche il pubblico meno accorto riesce a cogliere e Luca Fusco, il regista, è abile a giocare su più registri. C'è paradossalmente parecchio teatro borghese, aiutato dalle musiche di Ran Bagno e da una scenografia, firmata come i costumi da Marta Crisolini Malatesta, di spettacolare efficacia.